Musica Migranti Dove il ministro ha dato udienza alle associazioni Ecco, noi, io sono sicuro che stiamo pubblicando Capire insieme, tutti insieme, noi, che strada vogliamo perseguire per arrivare ai nostri diritti Mergoglia, 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 mergoglia Iniziativa dell'onorevole Paola Concia Questo incontro ha dato qualcosa di positivo Siamo tutte antifasciste 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 Dimissioni 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 E tutte le forme di intolleranza, è la prima volta, ed è vero, che un governo si impegna è vero, che è vero, che è vero, che è vero. Grazie per la visione!